La minaccia è reale. Ne siamo convinti, signore. Succederà qualcosa di grosso e avrà ripercussioni sul mondo. Spazzerà via mezza Europa. E' ora di sbirciare dietro la cortina di ferro. Via, via, via! Avete un esercito? Quello che serve. E' ora di sborcarci le mani. Questa guerra era una mezz'ora. La verità non esiste. Si decide in chi credere. Io so che non ci deluderete.